Sì, settimana corta, da un lato si lavora meno, o meglio c'è poco tempo per poter lavorare, dall'altro si rigioca subito e quindi hai la possibilità di riscattare magari il primo tempo non del tutto bellissimo che abbiamo disputato contro il Sorrento. Quindi abbiamo lavorato fino ad oggi, domani è partita vera, quindi siamo pronti e carichi per poter affrontare questo derby nel migliore dei modi. Sarà un derby, un derby importante, in Sicilia ce ne sono parecchie, quindi è il primo che affrontiamo e siamo consapevoli dell'importanza della Valenza e anche del Messina, che è un'ottima squadra, siamo pronti ad affrontarlo con il coltello tra i denti. Un avversario ostico, un avversario che sta bene, con un allenatore molto competente, una squadra che corre, che ha bene a mente quello che deve fare, che ha messo in difficoltà il benevento, andando a colpire un pale o una traversa. Quindi sicuramente un avversario di tutto rispetto, che va preso con la giusta importanza e sapendo che comunque in campo sarà battaglia vera e non possiamo tralasciare o sbagliare approccio a livello mentale. Il Trapani sta molto bene, abbiamo recuperato Fall, abbiamo recuperato Udo, quindi siamo quasi al completo, solo Zupp e le Valietti non saranno nella partita, quindi ritengo che abbia l'imbarazzo della scelta, ma un Trapani che sta bene fisicamente, mentalmente, che veniamo da sei risultati utili consecutivi e quindi sicuramente grande umiltà e grande voglia di poter continuare su questa scia.